ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco tsp a cosa serve tsp a un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per oftalmologia altri lenti a contatto vedi y 21 03 09 è commercializzato in italia dall'azienda anseris farma srl informazioni commerciali titolare farmigea spa concessionario anseris farma srl categoria di appartenenza dispositivi per oftalmologia altri lenti a contatto vedi y 21 03 09 confezioni tsp soluzione oftalmica cielo 0,5 per cento 20 fl monodose 0,5 ml indicazioni tsp a un sostituto lacrimale che umidifica e lubrifica la superficie oculare e protegge la cornea da fattori irritanti componenti e ingredienti ts polisaccaride 0,5 per cento manditolo acqua pp e fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato